Rieccoci di nuovo insieme, dunque oggi 2 ottobre, festa dei nonni, celebrazione di Santi Angeli Custodi, giornata internazionale della non violenza, insomma tanti i temi che caratterizzano questa giornata e tanti gli scatti che ci state inviando da tutta Italia per celebrare degnamente questa festa. Al volo, grazie al prezioso supporto della regia andrei a fare tanti cari auguri a Maria ed Emilio, questa è la cornice di cui parlavamo prima, i nostri cari nipoti, saluti da Natale e Rosa, Rubiera, Reggio Emilia, buona giornata a tutta la redazione, grazie, grazie di cuore e poi ancora si festeggia qui anche i 50 anni di matrimonio, festeggiati da figli e nipoti, tantissimi auguri a tutti noi. Maria ed Emilio e poi grazie per gli auguri Gabriella da Cremona e ancora sono Angela Maria di Torino, purtroppo non c'è più, ho 5 nipoti, li considero il dono più grande che Dio mi ha donato. Tanti cari auguri anche a te, come abbiamo già detto, un ricordo caro a tutti i nonni che non ci sono più. Ritorniamo invece adesso alla preparazione alla festa di San Francesco d'Assisi che ovviamente celebreremo il 4 ottobre ma sapete che è in corso la novena in preparazione a questa grande festa e in maniera particolare oggi dopo la celebrazione vespertina, precisamente alle 20.45 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, ci sarà un bellissimo concerto meditazione in memoria dell'ottocentenario della stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi, concerto che sarà tenuto dalla corale polifonica fra Daniele e Natale con meditazioni a cura del nostro caro fra Italo Sant'Agostino. Insomma, un evento davvero da non perdere e siccome questa iniziativa ci piace davvero tanto, stamattina volevamo soffermarci un po' su di essa, non per nulla in studio abbiamo la gioia di accogliere e di ospitare i due codirettori della corale polifonica fra Daniele Natale, Daniele Marcucci e Luca Cocomazzi. Buongiorno, buongiorno e ben trovati, tutto bene? Tutto bene, siamo pronti per stasera? Siamo carichissimi per stasera. Allora, vogliamo dire qualche parola in più sul concerto di stasera? Sì, allora stasera sarà un concerto che ci guiderà un pochino attraverso anche la vita di San Francesco, infatti come ha giustamente detto Tony prima è un concerto meditazione, quindi affiancheremo ad alcuni brani del repertorio sacro, autori tra i quali Frisina o anche Allegri con il suo famosissimo Miserere, delle meditazioni scritte come dicevi da Fra Italo Sant'Agostino che ci guideranno un po' anche a riflettere sulla vita di un santo così grande per poter infine riuscire ad elevare una preghiera insieme a fine serata. Molto bene, hai citato Frisina, se non ho capito male, un caro amico di Padre Piotv, Daniele, c'è un rapporto particolare tra la corale e il maestro? Sì, diciamo che un anno fa ci è venuto in mente di chiedere anche a Monsignor Frisina proprio di scrivere un inno per quanto riguarda proprio la nostra Madonna delle Grazie perché volevamo appunto onorarla di questa cosa qui. Abbiamo chiesto a Monsignor Frisina di scrivere quest'inno e lui non ha esitato a dire di accettare subito la nostra proposta. L'inno è stato eseguito per la prima volta lo scorso settembre nella festa della Madonna delle Grazie nella Chiesa Madre, perché quando a settembre c'è la festa quindi facciamo proprio questo concerto lì e seguimo per la prima volta l'inno che Monsignor Frisina ha scritto. Complimenti, davvero una bellissima collaborazione che ha dato un bellissimo frutto. So che siete molto attivi, avete anche dei canali social, ci sono delle foto, pregherei la regia di condividere alcuni scatti che abbiamo appunto reperito dalle vostre pagine social, Facebook e Instagram in maniera particolare. Siete prevalentemente un gruppo di giovani o la corale è aperta a tutti? È una corale molto ampia, cioè diverse età, non è che abbiamo avuto anche ragazzi, bambini anche di 12 anni, 11 anni e poi a sbariare sui 20 anni, 30 anni, 60, quindi è molto ampia, siamo come una grande famiglia. Ecco, raccontaci Daniele un po' come nasce, quando nasce la corale, quali sono i vostri impegni, quelli quotidiani diciamo così e magari invece anche quelli particolari che di tanto in tanto arricchiscono il vostro percorso. Sì, tra l'altro l'anno prossimo la corale compie i suoi primi 10 anni di esistenza. Tanti cari auguri! E quindi proprio perché nacque con il primo concerto che è stato fatto per l'inaugurazione dell'anno della misericordia, del giubileo della misericordia, perché ci fu proprio un parroco di una parrocchia di San Giovanni che ci chiese di creare un concerto e appunto di unire un po' alcuni elementi delle varie parrocchie, coristi, e organizziamo proprio questo concerto, iniziamo il nostro cammino proprio da lì. Bene, ieri mi parlavi anche che le corali hanno una vita artistica anche molto intensa se vogliamo, perché ci sono anche meeting a livello nazionale, ci sono grandi concerti che si svolgono anche un po' in tutta Italia, insomma è un percorso anche entusiasmante, oltre che formativo quello che state facendo. Sì, anche perché siamo entrati a far parte della FederCori dallo scorso anno e c'è stato proprio giorno 23, il giorno della festa di San Pio a Manfredonia, c'è stato proprio l'incontro dei Cori regionali di Puglia, c'è stato questo grande meeting e appunto organizzano anche diversi incontri, ci saranno anche nei prossimi incontri, proprio 4, 5, 6, ci saranno degli incontri a Barletta sul Gloria di Vivaldi, che terrà Antonio Lanaro, giusto si chiama così? Beh, questo è molto importante perché tante volte immaginiamo che i cori durante le celebrazioni siano delle realtà estemporanee, invece dietro c'è tanto lavoro, tanta abnegazione, tanta preparazione, infatti voi avete fatto anche dei percorsi formativi che vi aiutano a guidare gruppi anche così numerosi come abbiamo visto, maestro Cocomanzi. Sì, assolutamente c'è una preparazione forte dietro, prima di tutto chiaramente di chi deve guidare e poi c'è anche tanta volontà da parte di ciascuno dei coristi di partecipare in una realtà che possa far crescere tutti insieme e che possa quindi anche in qualche maniera creare famiglia, perché poi, come diceva prima Daniele, noi accogliamo persone di tutta l'età e tutte hanno la voglia di mettersi in gioco, perché magari tante volte può essere complicato fare tante ore di prove, tante prove, e invece il cuore risponde sempre bene, cerca di essere presente, nonostante poi chiaramente tutti gli impegni che ognuno di noi ha, e loro invece hanno sempre voglia di superarsi e di giocare un pochino anche con la musica, che è la cosa più bella. Bene, come si soldina in questi casi? Onore al merito, complimenti ragazzi, anche perché poi è sempre bellissimo quando dei giovani come voi si impegnano in dei progetti come questi, che poi danno tanti tanti frutti. Vedo sul nostro schermo che siamo ancora sulla vostra pagina Facebook, pregherei alla regia di soffermarci sulla grafica dedicata alla novena e alla festa di San Francesco, oltre che su questa bella immagine del vostro coro, della vostra corale. Questa è la grafica dell'appuntamento di stasera, quindi approfittiamo per invitare tutti coloro che fossero nelle possibilità, nelle condizioni di partecipare di persona al concerto, a recarsi nella chiesa Santa Maria delle Grazie già per le 20 e 30, in maniera tale da prendere posto per partecipare a questo importante momento di preghiera e di meditazione. E poi, come dicevamo, ecco la grafica dedicata alla festività di San Francesco d'Assisi, che ci ricorda non solo l'appuntamento di oggi, ma anche la celebrazione vespertina di domani, presieduta da Fra Aldo Broccato, e la celebrazione del Beato Transito, a seguire alle ore 21, presieduta dal padre guardiano Fra Rinaldo Totaro. Poi, venerdì 4 ottobre, festa di San Francesco, solennità di San Francesco d'Assisi, celebrazione eucaristica alle ore 18, presieduta dal padre guardiano, e a seguire la processione con la statua del santo che si snoderà lungo le vie del paese. E poi, sabato 5, ci ricorda ancora la locandina, ci sarà anche la fiaccolata mariana alle ore 21, un momento che anche questo sa regalare tante, tante emozioni. Bene, ragazzi, noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi stamattina, per esservi presi anche, come dire, la briga di venire nei nostri studi, ma ci faceva molto piacere, per cui grazie per essere stati qui con noi, e grazie per il prezioso lavoro che state facendo. Grazie a voi. Appuntamento a stasera con Daniele Marcucci, Luca Cocomazzi e tutta la corale polifonica di Daniele Natale, dedicata a Daniele Natale, magari la prossima volta ci prenderemo anche un po' di tempo per ricordare questa importante figura proprio con voi. Per il momento però questo è tutto, noi diamo la linea alla regia e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità.